è scattata l'ora solare voi ci siete e come dico sempre grazie quanti siete e per come siete e oggi la storia che vi presentiamo è bella quanto chi l'ha vissuta e chi ha avuto la forza di raccontarla sentite queste parole ci si può rialzare si può sperare si può vivere nonostante e mette un punto nonostante il dolore più grande che ti possa capitare io sono felicissima che abbia accettato il nostro invito una donna splendida splendida fuori splendida dentro eleonora pedron ciao un bacio da lontano ma un bacio complimenti per lo studio è meraviglioso ma io ti ringrazio davvero ti ringrazio almeno quanto te almeno quanto te siamo felici di sentirlo dire perché così è sai l'idea è quella di casa stare a casa infatti ci si sente proprio a casa bene siamo felicissimi che ce lo dica tu sembra che mi ha invitata tipo a prendere il tè a prendere il tè non ci sono i pasticcini sul sul tavolo ma come se fosse leonora pedron noi la conosciamo perché leonora pedron è miss italia correva l'anno 2002 ieri 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 mattina un po miss italia vintage miss italia vintage e anche di una simpatia smodata perché ci mettiamo la firma per essere vintage come si definisce certo leonora perché quando uno fa miss italia giovanissimoissimoissimo e ecco di quella di quel momento poi raccontiamo tutta la tua storia ma di quell'istante quando dicono il tuo numero no perché si parte anche da lì che cosa scoppia in quel momento si ricorda qualcosa si capisce qualcosa allora innanzitutto paola era c'era fabrizio c'era fabrizio c'era fabrizio e e quando con la sua voce bella squillante diceva quella frase era 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 l'emozione iniziava proprio da lì prima che dicesse prima che pronunciasse il numero ti ringrazio di averlo detto perché fabrizio frizzi era tra le altre cose l'uomo di miss italia cioè miss italia era lui nel senso che tutto ciò che miss italia rappresentava era fabrizio straordinariamente fabrizio che poi è stato casualmente il padrino di mia figlia di battesimo perché quindi un amico sì un amico un grande amico e insomma sono anche contenta che mia figlia in essa abbia avuto lui come come padrino del battesimo hai ragione leonora e perché è una persona splendida fabrizio e vedi che bello tiriamo tanti fili mi è rimasto nel cuore come penso a tutti a tutti quindi accade ti viene dato questa ti viene data questa corona insomma di donna più bella d'italia pronta a rappresentare la bellezza dell'italia ovunque in italia e nel mondo e hanno avuto ragione hanno avuto una perfetta ragione e faccio un nome nonna bertilla una nonna come dire sprint tenace con un suggerimento fondamentale che riguardava un po di tacco e rossetto rossetto rosso allora mia nonna era una donna molto elegante raffinata però era attenta ai piccoli dettagli quindi quando mi vedeva in televisione subito dopo scattava la telefonata e mi diceva però un pochino di rossetto rosso io l'avrei messo perché ricordati che fa la differenza infatti vedi c'è anche c'è anche c'è anche insomma metto spesso ecco sì questo adesso è in linea non stava bene con il vestito a proposito del vestito è sempre questa nonna formidabile perché è la storia della famiglia di eleonora pedron quella che stiamo raccontando io non vi ho ancora mostrato un libro che è il motivo anche il motivo per quelle onore qui questa nonna che diceva il portamento aveva ragione l'ha azzeccato perfettamente anche in questo caso cioè il suggerimento principale era come ci si pone sì sì per mia nonna era più importante il portamento che la bellezza esteriore cioè fuori e lei lo vedeva in me tant'è che io ho iniziato a fare i concorsi di bellezza ma io non ho mai fatto una scuola tante ragazze prima di sfilare fanno proprio delle scuole per prendere lezioni sulla camminata sul portamento io non l'ho mai fatta perché allora inizialmente ho avuto difficoltà anche io io mi sono presentata la prima sfilata di moda di di scusami concorso di bellezza con la zeppa cioè non si fa no 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 io ti guardo con aria interrogativa perché erano cioè andavano andavano quelle zeppe con un po di plastica trasparente non so se te le ricordi ecco per me era era normale era bella certo no non si andava con la zeppa si andava con il tacco quindi la prima la prima mia prima lezione si è stata abbastanza bruttina poi mi sono ripresa subito dopo io ti chiedo una cosa mentre lo mostro questo libro il titolo è il titolo è tutto l'ho fatto per te tenetelo a mente l'ho fatto per te e giunti editore ha avuto la buona idea di pubblicare questo libro ancora una domanda e poi ci tuffiamo nella tua storia leonora tu sei elegantemente bella e simpatica usi o meglio non è il verbo non è corretto vivi la tua bellezza l'ho già detto altre volte ma lo ripeto come un cappotto appoggiato sulle spalle no la porti con una naturalezza da sempre e questo questo dove si impara ma forse l'educazione che ho avuto cioè ho avuto degli insegnamenti precisi cioè tutto tranne che basati e centrati sulla bellezza quindi mi sono stati trasmessi tanti valori però quello no cioè quello legato all'aspetto fisico ecco esteriore all'aspetto esteriore sono cresciuta in una famiglia dove viveva l'allegria dalla mattina alla sera sia in casa nella mia casa sia nella casa dei miei dei miei nonni sia cioè paterni e materni tutti i parenti i cugini gli zii poi mia mamma è la prima di dieci figli quindi ho sempre respirato quell'aria bella di divertimento di allegri di sana allegria e mi è stato trasmesso questo non c'era spazio per altro insomma non c'era spazio per altro poi forse io non mi sentivo cioè mi sono sempre definita particolare ma non ma mai bella perché non ho mai non ho mai cioè quando penso alla bellezza non penso mai alla bellezza fuori cioè estetica anzi il contrario cioè riesco a vedere la bellezza proprio nel carattere di una persona nella luce questo si vede credimi si vede da quel lontano 2002 non troppo lontano si vede per la persona che sei per quello che hai fatto e per quello che hai avuto la forza e la generosità di scrivere in questo libro questa è una fotografia bella e importante perché c'è la mamma di Eleonora e c'è sua sorella Nives la storia parte da qui noi vi aspettiamo in questo studio che è una casa la vostra casa dell'ora solare tra poco grazie Eleonora Pedron è la nostra Miss Italia 2002 un titolo strameritato conquistato con una tenacia con una forza oltre che con la propria bellezza che è tutta raccolta in questo libro scrivere un libro Eleonora è sempre una scrivere un libro che ci racconti è sempre un'operazione complessa la storia della tua famiglia di questa famiglia così bella questa famiglia così rumorosa felice viene questa storia viene interrotta in maniera brutale e ingiusta quando la tua mamma con tua sorella maggiore Nives che non stava bene aveva una febbre sale in macchina e che cosa succede? hanno avuto hanno avuto un brutto incidente mia madre aveva aveva riportato una frattura al femore quindi poi è rimasta un mese sulla sedia a rotelle mia sorella invece è entrata in coma ed è rimasta un mese in coma e poi purtroppo non ce l'ha fatta tu quanti anni avevi? io avevo nove anni avevo nove anni e avevo capito un po' tutto quello che era successo perché in realtà l'avevo capito guardando i miei genitori perché mi sono ritrovata da tutta quella grande allegria di cui ti parlavo prima a un'enorme sofferenza e quindi avevo capito che era successo qualcosa di molto grave anche se non sapevo esattamente che cosa significasse andare in cielo quando mi hanno detto Nives non c'è più cioè non avevo ben capito che cosa fosse successo e poi però poi l'ho sempre cercata e siccome condividevamo la stessa cameretta dopo io sono andata a dormire nel suo letto non poteva che essere così no? quando fuori c'è un temporale si è fra sorelle si sgattaiola nel letto della sorella più grande e si cerca il riparo dai tuoni che fanno paura nel tuo libro tu sei così cara da raccontare come tu piccolina a nove anni in quell'enorme dolore enorme indicibile dolore vissuto dai tuoi genitori sia stata la loro forza no? poi uno si stanca anche di essere la forza degli altri c'è un momento in cui ti stanchi di essere la forza di tutti però tu ci sei riuscita? ma guarda Paola in realtà non mi sono mai stancata perché non sopportavo la sofferenza quando vedevo mia madre piangere mi arrabbiavo era anziché capito cercare di non lo so di rassicurarla di farla star tranquilla di dirle qualche parola dolce non ci riuscivo le dicevo basta piangere perché piangi guarda che lei è qui erano tutte delle frasi che io dicevo perché anche se magari non le pensavo perché non è difficilissimo dire una cosa che in quel momento forse si sente se no non si va a dormire nel letto della propria sorella ma non si crede non è difficile per un bambino riuscire a fare tutto questo? sì è stato difficile però adesso che io ho due figli mi rendo conto che mettersi nella testa loro da adulti è difficile perché si instaurano dei meccanismi sono bimbi io ero bimba non avevo la non ragionavo come una un'adulta è ancora il mondo dei bambini diciamo è il mondo dei bambini quindi non so darti una risposta precisa a questa tua domanda perché per me forse è stato facile adesso no non potrei mai Eleonora Pedron si trova nella propria famiglia la pace o sapete quella forza che arriva quando arriva un altro bambino no? nasce tuo fratellino e innegabilmente ognuno di noi è un'isola però l'arrivo di un fratellino porta respiro nella tua casa beh per me io ero felicissima e ancora più felice mio padre perché era il primo maschio quindi sai nel paese c'è ancora quella aspettativa cioè in generale delle famiglie del figlio maschio essendoci nate due femmine quindi io e mia sorella era arrivato il maschietto e quindi figuriamoci mio papà era ancora più felice di me ora come in un film grande e importante ma scritto da uno sceneggiatore molto crudo nei modi di scrivere e di fare molto diretto succede questo papà era il tuo tifoso non perché mamma non lo sia della nonna abbiamo detto però un papà così fiero di questa figlia bella, intelligente e non vanesia così te l'ho dette tutte io e papà ti ha sempre accompagnato a questi concorsi che poi tu hai iniziato a fare per divertirti perché sì senza mai chissà che obiettivo nella testa te lo dico adesso l'obiettivo l'ho scritto anche nel libro in questi concorsi poi lascia perdere quelli validi per me si tagliano ma se mi classificavo tra le prime tre vincevo sempre qualcosa o lo stereo o l'epoca c'era il videoregistratore che ne so la cena per due ma quanto sei bella ma quanto sei bella lo stereo lo stereo lo stereo e quindi io e mio papà abbiamo vinto lo stereo cioè e io ero contenta perché portavo a casa quello e quindi facevo felici loro e tutto torna alla tua famiglia vedi erano stati a un certo punto separati da questo dolore impronunciabile immane della perdita di Nives e sono tornati no? insieme non si sono mai separati ma sono tornati insieme mentalmente sì ecco ora tu e papà siete a Milano andate a fare questo provino e qui si correva per Miss Italia allora no in realtà ero provino per un altro programma e fino alla sera prima cioè avevo avuto una discussione non mi ricordo esattamente su che cosa ma avevo avuto una discussione con i miei genitori qualche giorno prima e quindi ad un certo punto ho detto a mia mamma vabbè non è un problema vado da sola a fare questo provino oppure guarda facciamo così non ci vado neanche più perché non sapevo come andarci non nel paesino immerso nella campagna sembra tutto lontano io no cioè a parte andare al mare lì forse è tutto lontano certo non ero mai andata a Milano mai stata e quindi per me era un viaggione invece sono due ore di treno e ho detto no vabbè non voglio non voglio fare il viaggio da sola non importa non lo faccio mio papà subito no dai non ti preoccupare adesso vedo se riesco a cambiare il turno al lavoro e ha trovato l'amico che gli ha insomma fatto questo questo piacere e quindi poi mi ha accompagnata lui allora perché facevo riferimento tutte queste cose le trovate nel libro quando lo si legge quando lo si scorre sembra impossibile tu chiedi il cambio di turno ad un tuo amico lo tieni accompagni tua figlia perché la ami follemente perché sei uno splendido papà dici a tua figlia stendi un po' riposati no torniamo a casa e poi accade l'impensabile no Eleonora eh sì abbiamo avuto un incidente proprio appunto sulla strada del ritorno e io non ricordo tantissimo però come ho descritto anche entrando nei dettagli nel libro mi ricordo che ad un certo punto ho aperto gli occhi e ho visto mio papà che che mi abbracciava cioè e e pronunciava il mio nome e poi ho riperso i sensi ti proteggeva ti proteggeva sì sì mi ha cioè era proprio subito dopo ho pensato proprio questo che voleva era solo per essere sicuro che io stavo bene ha senso anche questo in entrambi i casi per la mamma e per i papà di Eleonora la colpa al volante non era la loro è una nota che mettiamo a piedi pagina però aggiunge crudeltà a questa storia e aggiunge ancor più valore a questa figlia capace di riemergere ancora una volta perdere papà così è stato non c'è un modo giusto però io ero convinta ero convinta che lui rimanesse con noi avevo proprio la certezza e quando vedevo mia mamma disperata e le dicevo non ti preoccupare che tanto papà si salverà sentivo questo dentro di me e perché trovavo cioè ingiusto non avrei cioè non avrei mai accettato di ritrovarmi senza di lui improvvisamente e soprattutto di nuovo questa crudeltà della vita nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia però subito dopo io mi sono sentita dentro una forza che ce l'avevo anche prima perché forse anche grazie al mio carattere sono sempre stata ho sempre saputo come affrontare il dolore tenace anche tenace però improvvisamente ho proprio mi è arrivata questa forza da da lassù penso penso che fosse la sua possiamo esserne sicuri sì sì possiamo essere sicuri la sua con quella di Nives il tuo libro si apre con questa lettera la tua sorella no? la sua e qui l'ho fatto per te comincia un po' a diventare più chiara la scelta del titolo di un libro che lo ripeto va letto sinceramente lo dico va letto perché è una è una lezione per tutti è un aiuto per tutti è una forza per tutti allora il tuo papà cantava una canzone noi abbiamo montato un po' di immagini a omaggio per un uomo speciale che continua a essere il capo famiglia di una famiglia molto speciale piccola 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 chetti vai vai piccola chetti vai 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 piccola chetti la porta si è chiusa non devi nemmeno inventare una scusa dormono tutti di un sonno profondo e questo silenzio è la fine del mondo cosa era un fan dei pu era un fan dei pu e una volta mandò mia sorella a prendere mi pare la cassetta perché lei studiava faceva le scuole a Padova e nel paese non si trovavano le cassette cioè tutte le novità arrivavano prima nel centro della città quindi lei andando a scuola a Padova un giorno gli disse guarda prendimi questa cassetta ci tengo voglio la cassetta dei pu lei tornò a casa con l'LP e quindi lui si arrabbiò tantissimo che l'LP non era la cassetta no si arrabbiò tanto ma come lei poverina ma non c'era la cassetta ma io ti avevo detto di prendere perché gli piaceva tanto questa canzone no ma gli piaceva i pu in generale gli piacevano tanto i pu Battisti sì la cassetta lo so che per alcuni di voi sarà la cassetta esistevano le audiocassette adesso ve l'abbiamo detto le audiocassette e quando avevi il disco il 33 giri potevi anche registrarla dallo stereo potevi metterla su cassetta no? si poteva fare esatto sì dunque guardatela questa fotografia torniamo a Miss Italy torniamo a quell'istante torniamo a Fabrizio Frizzi a quella a quella finale finale prima che arrivi la finale e caspita tu lì quando sei arrivata a Miss Italia tu l'hai fatto perché perché sì ti sei rimessa in pista sì allora io avevo già partecipato nel 99 però ero minorenne e quindi dovevo avere accanto uno dei genitori accanto comunque nelle vicinanze e ovviamente mio padre mi seguì durante tutta l'avventura nel 2002 potevo ripartecipare perché erano passati quei due tre anni dopo la prima dopo le prime selezioni e mio padre durante il periodo invernale quando noi di solito programmavamo le vacanze dell'estate ripeteva spesso non quest'estate la nostra vacanza sarà salso maggiore e io invece non ne volevo sapere perché non non volevo rifare tutti i concorsi certo insomma è una strada era una strada lunga però lui ci teneva ma tu l'ho fatto per te quando l'hai detto perché o l'hai pensato perché da questo nasce in realtà il tuo titolo io l'ho detto in diretta durante una delle serate di Miss Italia l'ho detto a Fabrizio perché Fabrizio mi domandò perché io avevo insomma scelto come si faceva perché si sceglie di fare e io risposi proprio questo l'ho fatto per mio papà e quando poi ho vinto mi sono ritrovata a casa uno striscione enorme con la scritta l'ho fatto per te quello da quella vittoria pro forma eravamo tantissimi davanti alla televisione c'ero anch'io e quando questa ragazza tanto bella che aveva rubato il cielo e se l'era messo negli occhi ha detto questa frase ho pianto ho detto ma pensa tu ma pensa che coraggio stare lì si non mi interessava cioè non mi interessava classificarmi arrivare centesima forse sarà per questo che hai vinto sarà per questo che hai vinto secondo te non solo perché sei la più bella ma io c'era una frase che che le persone che incontravo mi dicevano ed era insomma che quando mi la telecamera arrivava sul mio volto ero luminosa allora ad un certo punto mi sono incuriosita e sono andata a riguardarmi con la videocassetta esatto sono andata a riguardarmi le serate sì e ho visto questa cosa perché in realtà non ero la più bella di tutte non l'ho mai pensato no insomma mi si taglia arrivi alla finale non sono signorina taccia però non parli signorina Pedron avevo una luce avevo una luce diversa e anche in questo hai fatto un errore tu hai una luce Leonora Pedron e ce l'avrai per tutta la vita leggetelo questo libro leggetelo l'ho fatto per te edito da Giunti solo chi ami può riportare appunto la luce nella tua vita ci vediamo tra un attimo grazie Leonora grazie a te ma grazie grazie a te